E' guerra di carte bollate sulla vicenda Civis, per Palazzo d'Accursio è totalmente infondato il contro ricorso di Irisbus al Tar del Lazio. Il danno l'abbiamo subito noi, dice l'assessore Colombo, dopo atto anni i mezzi sono fermi. Andiamo avanti col People Mover, pieno appoggio alla Giunta. Il semaforo verde arriva dal PD bolognese dopo l'incontro tra sindaco e segretario Donini. L'infrastruttura che sta provocando forti divisioni nella maggioranza. Le telecamere di ETV entrano nella zona universitaria per fare un bilancio della parziale pedonalizzazione avviata nel 2008. Molte le lamentere di residenti e commercianti che dicono è una soluzione ibrida che scontenta tutti. Botte risposta tra Pietro Intino e Giuliano Cazzola a confronto in una tavola rotonda promossa da Union Camere. Al centro del dibattito il mercato del lavoro, la produttività e la contrattazione. Nonostante le iniziative di prevenzione e i continui appelli proseguono le truffe agli anziani. Vittima stavolta una donna di 81 anni raggirata da un finto impiegato del gas, fuggito con soldi e gioielli. Buonasera telespettatori, in apertura parliamo di infrastrutture. Il comune di Bologna si è detto pronto a rispondere colpo su colpo all'iniziativa di Irisbus che ha depositato presso il Tar del Lazio una richiesta di risarcimento danni per la chiusura dei cantieri Civis. Intanto il consorzio cooperative costruzioni che ha vinto con Irisbus l'appalto sul Civis ha detto di essere stato informato dal costruttore del tram su gomma soltanto a cose fatte. Ma vediamo il servizio. Infondato e temerario, così il comune di Bologna ha bollato il ricorso al Tar del Lazio presentato da Irisbus che chiede un risarcimento da 230 milioni per i presunti danni subiti dalla sospensione dei lavori Civis. A nome di Palazzo da Cursio, l'assessore alla mobilità Andrea Colombo, dopo aver smontato pezzo per pezzo le motivazioni dell'azienda costruttrice del tram su gomma, ha aggiunto che in questa vicenda gli unici ad avere subito un danno sono il comune di Bologna e i suoi cittadini che dopo otto anni non hanno ancora i 49 mezzi funzionanti previsti dall'appalto. La Irisbus è gravemente inadempiente e per questo, conclude Colombo, se vuole battaglia legale avrà sicuramente pane per i suoi denti. Prende le distanze dall'iniziativa Irisbus il Consorzio Cooperative Costruzioni, l'altro vincitore dell'appalto per la costruzione del Civis. Il CCC parla apertamente di frattura perché si era detta sì favorevole ad un ricorso per la riapertura dei cantieri ma non certo per la richiesta di un risarcimento agli enti pubblici. I piani alti della CCC fanno sapere di essere stati informati dalla Irisbus solo a cose fatte e attraverso una mail. Modalità, sottolinea il Consorzio Cooperative, non comprensive degli interessi della CCC. Una risposta in questo senso è già stata inviata alla Irisbus e, conclude il Consorzio Cooperative, i legali sono già al lavoro per contestare l'iniziativa Irisbus del ricorso al TAR. Non si esclude a questo punto un ulteriore fronte di scontro, questa volta tra i due vincitori dell'appalto Civis. E parliamo ancora di viabilità perché sul People Mover prosegue il dibattito politico interno alla maggioranza. Dopo il voto in Consiglio Comunale che ha segnato uno strappo in seno alla maggioranza sullo stop ai lavori, questa mattina il segretario dei Democratici, Raffaele Donini, ha incontrato il sindaco, Virginio Merola, per ribadire il sostegno del Partito Democratico alle decisioni della Giunta. Abbiamo concordato che sul People Mover non si torna indietro. Queste le parole pronunciate dal numero uno dei democratici bolognesi, Raffaele Donini, dopo un faccia a faccia tra lui e il sindaco Merola, che si è tenuto, come riferiscono le agenzie, questa mattina presto. L'azionista di riferimento della maggioranza che regge Palazzo da Cursio ha quindi sentito il bisogno di un incontro urgente con il primo cittadino per ribadire il pieno sostegno del suo partito alle decisioni della Giunta. E per farlo Donini ha usato le stesse parole pronunciate da Merola. Ieri pomeriggio la monorotaia tra stazione e aeroporto si deve fare e da qui all'inizio dei cantieri saranno chiariti gli aspetti tecnico-gestionali di cui si sta discutendo. Per quanto riguarda l'istruttoria pubblica richiesta da quasi 4.000 cittadini, per Donini si tratta di un'opportunità per illustrare alla città l'importanza strategica dell'opera, non certo un'occasione per fermarla. Il segretario cittadino del Partito Democratico ha poi ricordato come il gruppo consigliare del PD abbia rigettato in modo unitario la richiesta di fermare i cantieri. E però, se Donini intendeva sottolineare la disciplina dei suoi consiglieri comunali davanti alle decisioni prese dalla Giunta, c'è chi proprio dalle fila del gruppo PD si smarca e il caso del consigliere democratico Benedetto Zacchiroli, al quale quel sul People Mover decide la Giunta, detto ieri da Merola, non è piaciuto. Così, mentre Donini diceva quello di cui abbiamo dato conto, contemporaneamente Zacchiroli faceva sapere che l'esecutivo deve ricordarsi che esiste il Consiglio Comunale, il cui compito è indirizzare e controllare il lavoro della Giunta. Non ha invece dubbi sul People Mover la Regione Emilia Romagna. Questa mattina l'assessore Peri ha confermato di avere già pagato la prima rata di 30 milioni di euro messi a disposizione da Viale Aldomoro. Ci sono poi soci privati interessati ad entrare nella società di gestione, ha aggiunto Peri, per il quale questi soci starebbero solo aspettando la conclusione del dibattito in corso. Sul People Mover ha poi concluso l'assessore ai trasporti. Si sta pensando di coinvolgere il gruppo FS, l'aeroporto di Bologna, per rendere ancora più competitiva l'infrastruttura, mettendo insieme il biglietto aereo, quello del treno e naturalmente quello della monorotaia. E cambiamo argomento. Il 3 e il 4 dicembre, in occasione della seconda edizione del T-Days, il Comune di Bologna presenterà il piano delle pedonalizzazioni in centro storico. Ci saranno strade in cui il traffico è totalmente proibito, ma anche zone parzialmente pedonalizzate. Un esempio di quest'ultima soluzione a Bologna è già presente, a dire la verità, in zona universitaria, dove la pedonalizzazione è stata avviata nel 2008. Questa mattina Massimo Ricci ha realizzato una piccola inchiesta per capire che cosa ne pensano i cittadini, come è andata in questi tre anni questa sperimentazione. Vediamo di capire che cosa è emerso in questo servizio appunto di Massimo Ricci. Il 15 maggio del 2008 è partita in via sperimentale la pedonalizzazione della cosiddetta zona U, un'area compresa tra via Irnerio e via Belmeloro. Si tratta di una pedonalizzazione ibrida. La circolazione è vietata 24 ore su 24 ad automobili e motorini, ma è comunque consentita ad autobus, taxi e residenti. Una soluzione a metà che scontenta molti. Innanzitutto questa non è pedonalizzata, è una semi-pedonalizzazione perché lei come vede, comunque gli autorizzati, i residenti passano. Una rovina per tutti, per tutti, perché tanto la pedonalizzazione non c'è. È una cosa scombusolata che non si sa mica che cosa sia. Gli amici, le visite degli amici, non so, le persone che venivano prima da fuori sono calate, anzi praticamente dopo l'evento non abbiamo quasi più nessuno che ci viene a trovare. Il sistema per l'accesso con l'auto di amici e parenti è, secondo diversi residenti, cervellotico. Si può entrare solo dalle 20 alle 7 del mattino, previa comunicazione del numero di targa via SMS con un massimo di 15 accessi al mese. Vi faccio un esempio, durante il giorno una volta i miei genitori venivano a trovare, il mio figlio, il nipotino, quindi di giorno, cosa che non sarebbe più fattibile perché sarebbe fattibile solamente dopo le 20. Non dimentichiamo che i problemi più grossi sono per gli anziani, per quelle categorie più deboli, un problema, un sistema perverso, burocratico, eccetera, per far sì che potessero venire gli artigiani, per potessero venire i parenti. Cioè, un dato di fatto, molti artigiani qua non vengono, non vengono. Il Comune garantiva un grande afflusso, comunque servizio, da parte delle navette, degli autobus, della Ticino? Beh, sì, l'abbiamo avuto, ma però adesso ormai è stato sospeso, per cui siamo di nuovo a terra, insomma. Alla fine del 2009 il quartiere San Vitale diffuse un opuscolo contenente i risultati, a suo dire, raggiunti dalla pedonalizzazione. Oggi però sono confutati punto per punto dai comitati dei cittadini. Che avrebbero riqualificato la zona, impotenziato l'illuminazione, avrebbero potenziato appunto il bus navetta B, che invece hanno soppresso, cioè non è successo nulla, anzi tutto è peggiorato. Non è vero, come dicono loro, che hanno aperto delle nuove attività, non è vero che hanno riqualificato. Il regista della pedonalizzazione della zona U firmatario dell'opuscolo del 2009 era l'allora capogruppo PD del quartiere San Vitale, oggi assessore al traffico Andrea Colombo. E la CGL invece invita istituzioni ed associazioni di impresa a darsi da fare per uscire dalla morsa della crisi che sta colpendo duramente anche la nostra città. Vediamo allora il servizio di Giuseppe Piloni. La CGL lancia l'allarme sulla situazione economica di Bologna. L'emergenza è sotto gli occhi di tutti. Bisogna che istituzioni e associazioni di impresa si diano da fare, dice il segretario generale Danilo Gruppi. Pensiamo che occorra, come dicevo prima, è una formula che può sembrare generica, cominciare ad applicarsi al tema costruzione dello sviluppo, di una nuova fase dello sviluppo, intendendo per nuova anche il fatto che nuovo deve essere lo stesso sviluppo, rilanciando la vocazione industriale di Bologna, che non può più essere quell'industria che abbiamo conosciuto fino ad ora e che è entrata in quella dimensione di crisi tremenda che stiamo vedendo. Questo significa saldare, stringere sempre di più il rapporto tra produzione di merci e di servizi e sapere e conoscenza. È una sollecitazione anche nei confronti di un'industria? È una sollecitazione. A un'industria faccio una doppia sollecitazione. La seconda è quella di rendere evidente come intenzione politica, come volontà politica, quello che in parte un'industria ha già dichiarato, e cioè che a Bologna non ha cittadinanza alla linea Marchionne. Questo lo dico perché anche a Bologna è successo un fatto grave, che è la ricaduta della decisione di Marchionne di disdettare tutti gli accordi aziendali e quindi di buttare fuori la fiume dalle fabbriche della Fiat. Io penso che invece a Bologna bisogna fare una scelta diversa e chiedo a Confindustria di rendere evidente la diversità di questa scelta, che è la scelta di investire sulla qualità delle relazioni industriali alla ricerca di soluzioni condivise sui tanti problemi che sono aperti. Si è discusso di mercato del lavoro, produttività e contrattazione in un dibattito organizzato da Union Camere che si è svolto oggi nel pomeriggio. Si sono confrontati tra gli altri il deputato PDL Giuliano Cazzola e il senatore del PD in Chino, entrambi esperti di diritto del lavoro. Vediamo che cosa ne è emerso. È andato per noi Giuseppe Pilloni. Botta e risposta tra Pietro Echino e Giuliano Cazzola, parlamentari ed esperti di diritto del lavoro. Si sono confrontati in una tavola rotonda promossa da Union Camere al centro del dibattito, il mercato del lavoro, la produttività e la contrattazione. Il senatore del PD, Chino, ha parlato della sua proposta di legge che vuole modificare i rapporti di lavoro. Chi ha un posto fisso con una stabilità regolare non viene minimamente toccato da questa riforma. La riforma riguarda tutti i nuovi rapporti di lavoro con l'idea di disegnare un diritto del lavoro che sia veramente applicabile a tutti, che non significa il contratto unico, significa un diritto del lavoro unico che però deve essere applicabile a tutti e quindi superare la situazione attuale nella quale solo metà della forza lavoro è protetta e l'altra metà porta tutta la flessibilità di cui il sistema ha bisogno. Nessuno deve essere inamovibile, ma non nel senso che si possa licenziare e lasciare una persona per la strada, nel senso che se l'azienda deve ridurre il personale, sostituirlo, chiudere, tutti i lavoratori hanno diritto a vedersi garantito alla continuità del reddito e un investimento sulla loro professionalità fino a quando non sia stato reperito un nuovo posto di lavoro. Se ci deve essere una riforma dell'articolo 18 dello Stato dei Lavoratori deve valere per tutti, io credo che ci debba essere, ma che debba valere di solo per i nuovi occupati e non per quelli che attualmente in forza è una soluzione che non mi convince. L'altra questione è che Leichino affida un discorso di Flex Security ha una strategia dei mille fiori, cioè ha una crescita per parte l'ogenesi, una crescita così spontanea attraverso iniziative contrattuali. Io credo invece che si debba arrivare a soluzioni più organiche. E parliamo adesso di infortuni sul lavoro, un fenomeno ancora molto preoccupante, anche se si registra un lieve calo a Bologna. Intanto Inail e Regione firmano un accordo per aumentare il livello di sicurezza all'interno dei posti di lavoro. Ci informa Marco Rossi. Calano gli infortuni sul lavoro in Emilia-Romagna. Lo scorso anno la cifra complessiva ha fatto registrare una flessione dell'1,5%. Infrenata anche gli infortuni mortali scesi del 5,4%. Numeri comunque positivi viene osservato dal direttore dell'Inail Emilia-Romagna Alessandro Crisci, ma non troppo soddisfacenti considerando anche che le ore di lavoro sono diminuite a causa della crisi che tocca duramente le aziende dell'intera regione. In un contesto di rallentamento generalizzato degli infortuni denunciati e dei casi mortali crescono invece quelli avvenuti sulla strada in occasione di lavoro saliti del 9,1% e quelli che coinvolgono lavoratori stranieri. I più colpiti risultano essere i marocchini, poi romeni, albanesi e tunisini. Come sempre, il settore che ha riportato il maggior numero di infortuni è quello delle costruzioni, seguito dai trasporti, dalle attività immobiliari e servizi alle imprese e dall'industria dei metalli. Bologna, con 22.567 infortuni denunciati, registra una flessione dell'1,7%. Quanto agli infortuni mortali, 27 hanno riguardato il territorio del capoluogo emiliano, 10 quello di Ferrara, 9 quello di Forlice-Sene e via via tutte le altre. Per arginare sempre di più il problema, il direttore generale dell'Inail ha inoltre annunciato che a livello nazionale sono disponibili per le imprese circa 180 milioni di euro da investire in sicurezze e da ripartire a livello regionale, mentre nella lotta agli infortuni nel settore delle costruzioni la prossima settimana la stessa Inail e la Regione Emilia-Romagna firmeranno un accordo per l'utilizzo di sistemi elettronici di rilevazione delle presenze nei cantieri edili. Questo è il progetto Repac, che sostanzialmente è uno strumento tecnico per rispondere alla politica e per rispondere all'aumento della qualità della sicurezza nei cantieri, quindi controllare chi entra, chi esce, quante ore fa, quanto lavoro svolge e soprattutto essere in grado di aumentare la legalità all'interno dei cantieri. E nonostante le raccomandazioni che arrivano dalle forze dell'ordine e dalle istituzioni, un'altra persona anziana è rimasta vittima di un raggiro ieri a Bologna. È successo in Viale Aldini, dove una donna di 81 anni è stata presa di mira dal solito finto tecnico del gas che le ha portato via soldi e gioielli. L'uomo aveva in mano un piccolo apparecchio elettrico e si è spacciato per un dipendente diere e incaricato di un controllo su eventuali perdite di gas Per evitare interferenze causate da oggetti in metallo le ha detto avrebbe dovuto mettere tutti i monili sul letto secondo un copione già comparso in molti raggiri di questo tipo. Poi le ha chiesto di andare in un'altra stanza ad accendere e spegnere più volte l'interruttore dell'elettricità. Quando è tornata in camera da letto non c'erano più né il finto tecnico né la scatola con il denaro e i monili sull'episodio Ora indaga la polizia. E cambiamo argomento. Il 2011 si chiude con un segno meno per il mercato immobiliare ma il 2012 certo non si aprirà con prospettive rose per il futuro insomma per vendere e comprare casa decisamente questo. Non è un momento propizio. Facciamo il punto in questo servizio. Dividere l'appartamento con coinquilini improvvisati senza essere necessariamente familiari, studenti e lavoratori fuori sede per abbattere i costi dell'affitto. È il trend di quest'ultimo anno soprattutto sotto le due torri dove da sempre i costi delle case sono alti e spesso irraggiungibili. Da una ricerca condotta da Nomisma infatti emerge che il 30% degli affittuari rientra in questa curiosa categoria il dato più significativo registrato fra i capoluoghi emiliani. Ma analizzando più nel dettaglio il quadro del mercato immobiliare presentato dal terzo rapporto di Nomisma per il 2011 a fine anno il comparto potrebbe registrare un netto meno 6% per il residenziale e un meno 3,6% per uffici, negozi e capannoni. Le transazioni diminuiscono sensibilmente. In media ogni anno si registra una riduzione del 23% per le abitazioni e del 30% per gli immobili d'impresa rispetto al biennio d'oro del 2005-2007 quando si chiudevano non meno di 700.000 transazioni residenziali a fronte delle 575.000 di oggi. Risultato? I tempi medi di compravendita o di locazione di un appartamento si allungano attestandosi a circa 7 mesi per un acquisto o per una vendita e a 3 mesi e mezzo per l'affitto di un'abitazione. Ci vogliono invece quasi 9 mesi per un ufficio e 8 per un negozio. Pur in un contesto non particolarmente florido però i prezzi di vendita non sembrano in rapida discesa o quantomeno non in maniera così forte da far decollare le compravendite. In media la variazione dei prezzi degli immobili residenziali è scesa dello 0,7% nel primo trimestre del 2011 e si prevede un calo dell'1,6 nel secondo semestre dell'anno. Bologna comunque al netto della crisi economica generale si difende e mantiene un dignitosissimo quinto posto tra le 13 città italiane per i prezzi di acquisto di un'abitazione usata con una media di 2.500 euro al metro quadrato. Buona e sostanzialmente stabile è invece la situazione delle abitazioni residenziali e commerciali nelle zone centrali e di pregio della città. E continuiamo a parlare di case in merito alla probabile reintroduzione dell'ICI decisa dal nuovo governo Monti confabitare dice no ad una tassa che graverebbe sulle tasche dei cittadini con un aumento medio di 520 euro per la prima casa e di 650 per la seconda. I proprietari cercheranno di recuperare questi sborsi aumentando i canoni di locazione generando così un circolo vizioso di rialzo del costo della vita. Ed ora ci fermiamo un attimo andiamo in pubblicità rientreremo in studio fra poco restate con noi. E rivediamo insieme gli argomenti del nostro telegiornale guerra di carte bollate sulla vicenda Civis per Palazzo d'Accursi è totalmente infondato il contro ricorso di Irisbus al Tar del Lazio il danno l'abbiamo subito dice l'assessore Andrea Colombo dopo 8 anni i mezzi sono ancora fermi. Andiamo avanti col people mover pieno appoggio alla giunta Merola il semaforo verde arriva dal PD bolognese dopo l'incontro tra sindaco e segretario Donini l'infrastruttura sta provocando forti divisioni nella maggioranza. Le telecamere di ETV entrano nella zona universitaria per fare un bilancio della parziale pedonalizzazione avviata nel 2008 molte le lamentele di residenti e commercianti che dicono è una soluzione ibrida che scontenta tutti. Botta e risposta tra Pietro Inchino e Giuliano Cazzola a confronto in una tavola rotonda promossa da Union Camere al centro del dibattito il mercato del lavoro la produttività ed anche la contrattazione. Nonostante le iniziative di prevenzione e i continui appelli proseguono le truffe agli anziani vittima stavolta una donna di 81 anni raggirata da un finto impiegato del gas fuggito con soldi e gioielli. Ed ora parliamo di spettacolo da domani fino a domenica 27 novembre arriva Anna Mazzamauro al teatro Deon di Bologna con Brava un omaggio al teatro italiano con uno sguardo rivolto a Broadway la popolare attrice che in questi giorni si racconterà i nostri microfoni reciterà canterà e ballerà affiancata da attori e ballerini vi proponiamo un'anticipazione in questa intervista di Alessia Salvatori Noi donne ci dobbiamo sempre sentire turbate quando qualcuno fa oscure allusioni alla nostra età Che Anna Mazzamauro fosse brava ormai lo sappiamo tutti sia chi frequenta i teatri sia chi va al cinema Anna Mazzamauro ormai è un nome è una colonna portante insomma del nostro mondo artistico ebbene la Mazzamauro sarà al teatro De On in novembre dal 25 al 27 proprio con Brava Sì Brava è proprio riferita in questo caso a Anna Mazzamauro Brava col punto esclamativo è lei perché è brava l'hai detto tu perché è un'attrice poliedrica che sa cantare ballare recitare in modo strepitoso è un'attrice di cinema di teatro di televisione e quanto di più come posso dire poliedrico si possa dire oh non ricominciamo col solito discorso che è mattor furano per tutta la vita che sono brutta io una volta per tutte non sono brutta Brava vuole essere un omaggio al teatro italiano dai classici alla rivista dal varietà al musical e al mondo di Garenei e Giovanini qualcuno ci guarda e ci chiede quanti anni hai 50 tanto tutti quelli che potrebbero contraddirmi sono morti e c'è un'altra notizia di spettacolo Disney Channel Show in programma presso il Paladozza di Bologna dal 26 al 27 novembre è stato annullato per problemi tecnici ed organizzativi è possibile però chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 16 dicembre secondo determinate modalità per informazioni bisognerà rivolgersi al Teatro Europa ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità rientreremo in studio fra poco restate con noi ed ora siamo al calcio il Bologna ha passato il turno in Coppa Italia battendo per 4 a 2 il Crotone al Dallara ed ora sfiderà la Juve soddisfatto il tecnico Pioli che però dice ora mi aspetto risposte dalla squadra già da subito con il Cagliari sentiamo allora le sue parole io credo che abbiamo fatto una buona prestazione come in tutte delle prestazioni ci sono state le risposte positive parlo a livello di singoli è chiaro che abbiamo avuto un attimino di difficoltà iniziale ma era normale che fosse così perché comunque è vero che ci alleniamo insieme da 50 giorni ma è tanto vero che sono stessi in campo 11 giocatori che collettivamente presi tutti insieme non avevamo mai giocato insieme ed era per quello che mi aspettavo logico soffrire negli ultimi 15-20 minuti perché troppi giocatori che hanno giocato oggi purtroppo ancora non hanno i 90 minuti però è stato utile soprattutto per questo per vedere all'opera giocatori che avevano giocato poco per vedere l'atteggiamento per vedere la risposta dopo quello che ci è successo domenica anche se le risposte me le aspetto domenica prossima nel campionato ed ora siamo qui per rileggere i titoli è guerra di carte bollate sulla vicenda Civis per Palazzo D'Accursi è totalmente infondato il contro ricorso di Irisbus al Tar del Lazio il danno l'abbiamo subito noi dice l'assessore Andrea Colombo dopo 8 anni i mezzi sono ancora fermi andiamo avanti col People Mover pieno appoggio alla giunta Merola il semaforo verde arriva dal PD bolognese dopo l'incontro tra sindaco e segretario Donini l'infrastruttura sta provocando forti divisioni nella maggioranza le telecamere di ETV entrano nella zona universitaria per fare un bilancio della parziale pedonalizzazione avviata nel 2008 molte le lamentere di residenti e commercianti che dicono è una soluzione ibrida che scontenta tutti botte risposta tra Pietro Icchino e Giuliano Cazzola a confronto in una tavola rotonda promossa da Union Camere al centro del dibattito il mercato del lavoro la produttività e la contrattazione nonostante le iniziative di prevenzione i continui appelli proseguono purtroppo le truffe agli anziani vittima stavolta una donna di 81 anni raggirata da un finto impiegato del gas fuggito con soldi e gioielli e con la rilettura dei principali argomenti del nostro telegiornale si chiude questa edizione grazie a tutti per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti